È finita 3-3 la nuova sfida tra Luna Rossa e New Zealand nella terza giornata di regate della finale di Coppa America, nel Golfo di Aurachia, Oakland. I neozelandesi, campioni in carica, dopo aver perso la prima gara di 18 secondi, hanno dominato la seconda prova. Sul traguardo Tereutai ha vinto precedendo Luna Rossa di 1 minuto e 41 secondi. Domani nuove sfide con gara 7 e gara 8. Il cotimoniere della barca italiana Spithill dà la carica. Daremo battaglia fino all'ultimo. Daremo battaglia fino all'ultimo.